tutti i vicini tutti i vicini c'è scritto 40 doc sul loro petto i vostri nomi domingo 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 mi piace per me in qualche parte c'è cuba guardiamo se facciamo tutta l'america latina alessio mannaggia mi è andata ma vi passo davanti non abbiate male nomi marse miliano tommaso semplicissimo cristian cristian allora da dove venite condino provincia di reddo cosa festeggiate i 40 anni 40 anni la vostra cena di classe ok perfetto allora siete pronti a fare festa qui al convento si te sei pronto sei capace a ballare latino americano vieni da santo domingo e non balli latino americano mi manca quel ballo le sei uno da liscio te sei uno da liscio ok perfetto da break dance poi abbiamo i tre butta fuori del gruppo da dove venite esattamente quale città vicina c'è alla vostra per gli amici a casa che vogliono capire dove si trova il vostro paese rispetto a tutta la regione retino ok trentino l'ho capito paese condino ok dove si trova condino in trentino alto adige ok ma l'avete trovato dove l'autogrill questo ok ripetiamo il vostro paese si trova in quale provincia di trento tra lago d'idro e madonna di campiglio o vedi che era facile dirlo ok facciamo un brindisi ragazzi tutti insieme 1940 e no 40 i 40 anni doc forse dire i numeri qua sto sbagliando dal trentino alto adige ciao